Una manifestazione che si tiene per la seconda volta, quindi va dato merito anche all'amministrazione comunale di Parlaia di aver inventato anche nuove opportunità per far affluire gente nei borghi, nei centri storici dei nostri paesi collinari. Quindi i significati sono molteplici da sottolineare, quindi in primis questo, la valorizzazione del nostro patrimonio anche storico, culturale che nei centri storici collinari in qualche modo si è consolidato nel tempo. La possibilità per le persone anche di stare insieme in allegria gustando anche la qualità delle nostre produzioni enogastronomiche, la possibilità appunto di godere delle nostre colline, in questo caso delle colline pisane in uno scorcio di estate che per fortuna si sta prolungando.